Puglia, l'esperienza delle meraviglie è stata presentata proprio questa mattina, si è conclusa qualche ora fa la conferenza stampa alla BIT di Milano proprio della regione Puglia che ha presentato la nuova strategia di comunicazione per il 2023. Un 2023 che si prospetta con numeri molto importanti considerati quelli registrati già nel 2022, ieri infatti sempre alla BIT sono stati diffusi i dati relativi all'anno appena concluso, 4 milioni di presenze e 5 invece i milioni di arrivi in Puglia, insomma è stato un anno da record. E noi anche oggi a BIT on Air continueremo a raccontarvi tutto ciò che sta accadendo a Milano con il mio collega Maurizio Spaccavento direttamente da Milano e degli ospiti che mi raggiungeranno in studio nel corso di quest'ora, vi teremo compagnia appunto per tutta un'ora. Oggi ho il piacere di avere con me Rocchi Malatesta e Giuseppe Gimmi, benvenuti. Buonasera, ciao Mara Cristina. Ciao, benvenuti. Rocchi Malatesta, presidente del consorzio gestione Torre Guaceto e Giuseppe Gimmi, regista, perché ovviamente le figure che poi raccontano quella che è la nostra Puglia abbracciano tutti i vari segmenti che se vogliamo sono stati presentati anche oggi in conferenza stampa. Parliamo di cinque filoni oggi che fanno parte appunto della strategia di comunicazione 2023, ovvero wedding, anticipo rimanete con noi perché dopo parleremo di questo, bike outdoor, enogastronomia, cammini, arte e cultura. Insomma ce n'è per tutti per una Puglia che ancora non soltanto crea delle meraviglie proprio naturali ma sorprende sempre con i numeri. Rocchi, proprio in quest'ottica partendo da quello che poi diciamo il sud della nostra regione Torre Guaceto è una di quelle parti della nostra regione che regalano delle vere e proprie meraviglie. Sì, Torre Guaceto diciamo negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni è innanzitutto un oasi meraviglioso, un paradiso terrestre in terra, abbiamo la fortuna anche di gestire unica area marina protetta in Italia, un Lido che gestiamo direttamente noi e abbiamo tantissime attività, io dico sempre tutto l'anno. Quindi siamo anche un modello se vogliamo di destagionalizzazione perché non è solo il Lido, non è solo i nostri 8 km di spiaggia ad essere un approdo felice per i visitatori ma sono i tanti weekend durante l'anno per cui si può sempre venire a visitarci. Mattore Guaceto da qualche anno è diventato anche promotrice, siamo una riserva che sta lavorando in osmosi con il territorio per aggregare i comuni, per aggregare e fare rete con le bellezze circostanti e diventare un territorio felice, una destinazione sostenibile. Su questo concetto stiamo lavorando sia con la Carta Europea del Turismo Sostenibile sia con la candidatura che abbiamo presentato un mese fa per diventare Mab, cioè un sito UNESCO Sostenibile che sarebbe per la Puglia un grande privilegio visto che da Venezia fino in Sicilia saremmo gli unici a diventarlo e fra due anni avremo anche questa possibilità, raggiungeremo questo traguardo. In Bic ci presenteremo domani, poi magari ne parliamo dopo, insieme a comuni virtuosi che stanno seguendo certe pratiche di sostenibilità. E io proprio legati ai numeri, prima parlavo di queste percentuali, un più 2% rispetto al 2019 e ben 15,7 milioni di presenze proprio quest'anno, voglio dire che la provincia di Brindisi si piazza abbastanza bene, un 13% che comunque si porta a casa sicuramente grazie anche a delle zone che riescono ad attrarre come Torre Guaceto. Prima stavo mostrando le immagini, io chiedo alla regia di mostrarle nuovamente perché davvero ogni angolo della nostra regione è una cartolina. Prima di andare avanti con il mio secondo ospite, io ascolterei insieme a voi proprio il servizio dedicato alla conferenza stampa di questa mattina, diciamo è stata presentata anche dalla regione Puglia come l'appuntamento più importante nella tre giorni della Borsa Internazionale del Turismo, per lì ha seguito i lavori per noi. La Puglia è una destinazione turisticamente matura per cui quest'anno, il 2023, abbiamo pensato a una strategia di comunicazione molto più specialistica, molto più verticale, orientata sui prodotti che vogliamo spingere, prodotti che ci permettono in questa maniera sia di allargare il fronte dell'internazionalizzazione sia di coprire più mesi dell'anno. Abbiamo ritenuto che insistere nel comunicare esclusivamente il brand fosse una limitazione per alcuni settori che invece hanno bisogno di essere conosciuti come tali, sfruttando ovviamente le campagne che abbiamo fatto negli anni passati sul territorio, sull'immagine complessiva della Puglia, cominciano adesso a intrattenere relazioni e a comunicare con mondi specifici che hanno la possibilità di trovare in Puglia quella accoglienza organizzativa, umana e anche di bellezza e di esperienze che è estremamente importante. La regione mi ha chiesto di girare uno spot che riguardasse i matrimoni, con particolare riferimento ai matrimoni degli stranieri della nostra regione, io sono molto contento di aver lavorato in maniera abbastanza originale secondo me, cercando una location non scontata dopo tante masserie e tanti luoghi rurali, e quindi il matrimonio che è protagonista di questo spot è in riva al mare, in una cornice originale per noi rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Il mio contributo è un progetto che si chiama Puglia Leggende e parlerò di alcune leggende pugliesi in luoghi diciamo meno battuti dal turismo di massa, ho voluto scegliere dei luoghi dove non arriva a cacciare le cose, secondo me la Puglia in questo momento è una svolta, deve cominciare a scegliere il turista e non essere scelto dal turista. Sintesi quello che è accaduto questa mattina, come dicevo lì a Milano nel quartiere feristico per noi c'è il collega Maurizio Spaccavento col quale mi collegherai subito perché è in presenza proprio dei due assessori più importanti diciamo di questa borsa, l'assessore Gianfranco Lopane al turismo e Alessandro Delino, c'è lo sviluppo economico. A te Maurizio e benvenuto. Buongiorno, siamo in diretta dalla BIT di Milano, sono tra i viali della fiera milanese dedicata al turismo e sono in compagnia di due pezzi da 90 per l'occasione, i due assessori della regione Puglia, uno al turismo e l'altro allo sviluppo economico, Gianfranco Lopane e Alessandro Delinoci. Buongiorno, si è da poco conclusa la conferenza stampa in cui è stato illustrato il piano di comunicazione del 2023 della regione Puglia, quindi c'è un cambio di strategia, si passa dal veicolare il brand Puglia come si è fatto l'anno scorso con lo spot di Rubini a puntare su aspetti specifici. Sì, è proprio così, riteniamo che il brand Puglia sia già abbastanza affermato e che quindi la comunicazione possa essere più verticale, più legata al prodotto e possa essere in linea col piano strategico che stiamo portando a termine. Quindi cinque spot diversi che avranno un media plan specifico sui target che vogliamo andare a coprire ma anche su mercati e quelli esteri in maniera particolare che ci danno la possibilità di far conoscere l'offerta turistica pugliese anche al di là del mare. Sono il wedding, l'arte, la tradizione e le leggende di Puglia, il bike piuttosto che i cammini e l'enogastronomia che rappresentano l'oggetto delle nostre riflessioni nel piano strategico ma anche delle attività che come Assessorato al Turismo e come Puglia Promozione stiamo portando avanti. Assessore Dell'Inoci, oggi alla BIT non c'è il Presidente Emiliano per causa di forza maggiore ma si è collegato in videoconferenza con la conferenza stampa di cui parlavamo poco fa e ha espresso un concetto importante, l'assessore Dell'Inoci non è lì per caso ma perché turismo ed economia si fondono in maniera assolutamente pertinente e il turismo non deve essere fine a se stesso. Noi crediamo che il turismo è un comparto economico straordinariamente importante nella nostra regione, crediamo che ci debba essere una collaborazione stretta e sinergia con la promozione territoriale, oggi ci stiamo interrogando su come promuovere il Made in Puglia insieme al Marchio Puglia, cioè come raccontare non solo la nostra straordinaria capacità di trasformazione di prodotti agroalimentari o artigianali ma come raccontare un altro pezzo di Puglia che in questi anni è cresciuto magari con meno riflettori del settore turismo ma che attraverso il settore turismo può avere quella consegnazione industriale perché venire in Puglia e investire in Puglia non è solo un luogo delle vacanze ma un luogo in cui trascorrere la propria vita, trascorrere i propri interessi, investimenti e oggi ancora di più in un momento storico in cui stiamo investendo particolarmente su una Puglia sostenibile e su una Puglia che bagnata dal mare da tanti chilometri può generare un'opportunità straordinaria attorno alla logistica. Questi settori vanno insieme, sono sinergici e il nostro lavoro non è solo un lavoro comune, politico, dettato da un indirizzo del Presidente Emiliano che rispettiamo pedisseguamente ma è nato da una visione comune che condividiamo con il Presidente e che può portare solo a crescere la Regione. Assessore, oggi sono stati presentati gli spot ma verranno diffusi gradualmente, c'è stato soltanto qualche piccolo scampolo? Sì, perché meritano l'attenzione di tutti e quindi abbiamo deciso di pubblicarli a cadenza regolare nei prossimi giorni perché davvero su questi ci potremo concentrare per far capire qual è la vera meraviglia della Puglia. Seguirà un media plan specifico, come dicevo prima, che seguirà anche in mercati esteri sotto leggi del brand Italia, così come fra l'altro ci chiede il Ministro Santanchè cosa che già facevamo negli scorsi anni perché la nostra comunicazione in giro per il mondo anche negli anni precedenti era quella di descrivere la Puglia come un'Italia che non ti aspetti ed è questo che vogliamo realizzare con questi spot, scoprire l'autenticità e la meraviglia anche delle destinazioni minori all'interno della Puglia. Vi chiedo per un attimo di spogliarvi del vostro ruolo istituzionale, se è visto qualcosa in questi spot, la burrata, le biciclette, che cosa vi colpisce di più? Se dovesse convincere qualche italiano non pugliese a venire in Puglia, di che cosa gli parlereste? Beh, della felicità che si prova nel vivere la nostra regione che spazia appunto dalle nostre bontà che sono state illustrate in quello spot fantastico alla possibilità di viverla intensamente guardando paesaggi straordinari, pedalando, camminando e anche innamorandosi in Puglia. Assessore Dellinoce e Salentino, forse punta sul pasticciotto? No, punto sull'orgoglio identitario, materiale e immateriale che è quello che connotava ogni singolo spot, cioè un senso di appartenenza comune e la cosa che raccontavamo è che la bellezza è che anche chi viene da fuori e investe nel turismo in Puglia investe sull'identità e questo per noi è straordinariamente importante perché ci consente di avere un'unicità internazionale. Bene, grazie, grazie, restituisco la linea allo studio. Grazie a te Maurizio, ci collegheremo con lui tra pochissimo, ecco, voi invece che cosa preferite a livello proprio culinario? Mi rifaccio alla domanda che Maurizio ha posto agli assessori, vengo da te Ruki. Ma a livello culinario è un vero problema rispondere perché come spesso ripeto in Puglia ci sono 270 prodotti DOP e mescolando i quali escono migliaia di ricette e queste ricette sono veramente un must, cioè secondo me la Puglia forse con la Sicilia è una di quelle regioni che ha un'offerta infinita di piatti, quindi veramente ogni paese anche a distanza di pochi chilometri ha le sue pietanze, quindi io non posso rispondere. Giuseppe tu riesci a rispondermi? No, lo stesso è importante che non si perde la storia, cioè partire sempre dalla storia in tutto, soprattutto poi nel cibo che è un bene primario. Ed è bello che le tradizioni ultimamente appunto si stanno tramandando anche per la preparazione dei piatti. Allora Giuseppe vengo da te, tu sei un regista, hai lavorato con grandi appunto del nostro cinema italiano e non solo, perché tu porti quella testimonianza che la Puglia è un set a cielo aperto, quindi si può e si deve, speriamo anche in futuro, continuare a girare proprio in Puglia. Sì, l'idea della Puglia, di girare in Puglia, a mio parere c'è questa libertà di posti che non sono stati modificati tra virgolette dell'uomo, quindi da un punto di vista si riscopre quando giri una certa sensazione di libertà, di stare all'aperto, poi tutto nasce in realtà dalla sceneggiatura, dalla tipologia di scrittura, però uno dei motivi di, diciamo, la gente viene a fare qui film, secondo me è proprio questo, perché ci sono dei posti dove magari non c'è la mano dell'uomo, quindi si riesce a riscoprire proprio come dicevamo prima, un po' i valori, come il contadino, come magari il pescatore, da dove partire. Ma anche gli oggetti, magari anche l'albero, l'ulivo che è un simbolo proprio del nostro territorio. Stare all'aperto, stare proprio all'aperto e respirare questi profumi, cioè è una sensazione molto bella. Non è a caso appunto la regione ha voluto fare questa comunicazione verticale in uno di questi cinque filoni, c'è proprio l'outdoor, proprio perché come dicevi tu Giuseppe giustamente è tutta bella la Puglia, soprattutto anche quella naturalistica che spesso appunto non abbiamo saputo forse valorizzare. Non solo, c'è andare oltre, cioè dietro questi ulivi, dietro tutte queste figure c'è una storia e quello è molto importante, scoprire proprio la storia, da dove noi, chi siamo, da dove veniamo. E questo è bellissimo, soprattutto puoi portarlo fuori, fuori regione, sicuramente la BIT è uno di quegli appuntamenti che permette di mostrarsi. Rocchi, ti chiedo anche per la confidenza, per la conoscenza ormai da diversi anni, cosa pensi di questa comunicazione nuova? Io penso che sia assolutamente un momento di grande consapevolezza, non credo che sia un momento di presunzione, perché dire oggi che il brand Puglia sia conosciuto in Italia è di una scontatezza incredibile. La verità è che i numeri ne parlano, i numeri di aeroporti di Puglia, i numeri degli arrivi, anche in autunno, ci racconta di una Puglia che è conosciutissima anche e soprattutto anche all'estero, quindi nell'arco della vita di un prodotto, così come un prodotto food no food, anche il turismo vive della stessa curva del marketing, siamo in una fase matura e quindi quando si è in una fase matura di prodotto si può avere e si deve avere, se si vuole lavorare sulla destra giornalizzazione, una comunicazione verticale, il che vuole dire lavorare sulle tematiche, vuole dire sulla natura, sull'enogastronomia, sul bike, sui cammini, sull'arte e cultura, che sono temi che si sviluppano durante tutto l'anno, quindi sono assolutamente d'accordo, bisogna quindi non solo lavorare con la comunicazione, ma anche sì che i territori si organizzino per strutturare un'offerta adeguata, perché non basta soltanto dire che in Puglia si mangia bene ad ottobre, bisogna anche avere poi le strutture ricettive aperte, vuole dire avere anche un sistema di servizi e di trasporti adeguato, quindi ci vuole un allineamento tra domande e offerta che probabilmente la Puglia deve ancora raggiungere, però è giusto spingere su questo fronte. Diciamo anche personale formato, perché noi abbiamo intervistato anche l'assessore proprio alla formazione di Regione Puglia, Sebastiano Leo, presente alla BIT, perché in questo discorso più ampio che tu facevi giustamente, Rocchi, c'è quello di saper anche accogliere, l'anno scorso questa era proprio la parola, il claim, l'accoglienza, quindi è fondamentale la formazione dei giovani per tutti gli operatori che lavorano nel settore turistico, ma in modo particolare l'assessore Leo ha parlato di un altro evento importantissimo, che tra l'altro si svolgerà tra qualche settimana qui a Bari e parlo della BTM. Sentiamo. La Puglia ha la BIT di Milano, ma già con un occhio anche alla BTM, che è la versione pugliese della BIT. Sì, noi dobbiamo essere ovunque, nel senso che questa è una vetrina internazionale, quindi la Puglia, come le altre regioni d'Italia, devono essere presenti. ma anche la BTM, ovviamente, ormai è diventato davvero un riferimento importante, quindi in quell'occasione noi dobbiamo rappresentare e condividere le nostre proposte, le nostre idee su quello che è stato fatto, ma anche su quello che faremo, non solo per quanto riguarda il turismo, ma anche per quanto riguarda la formazione, il lavoro. Insomma, sarà davvero un'occasione importante per comunicare, rappresentare all'Italia intera quello che la Puglia sta facendo. La formazione è sicuramente fondamentale, però poi ci sono tanti giovani che sanno camminare con le loro gambe, il caso appunto di Giuseppe, che tra l'altro ha realizzato un corto, un film, ecco, dove l'elemento fondamentale è proprio l'ulivo, quindi anche chiederei alla regia di mostrare, abbiamo un trailer legato proprio a quello che tu hai realizzato. Il cortometraggio è stato, in realtà è un sogno che io ho fatto e quindi racconta la storia di Tonino, che è un contadino che prova ad abbracciare in un sogno suo padre scomparso e qui proprio mi sono, cioè ho voluto raccogliere proprio queste parti di, affasano delle parti magari dove non sono state, dove non ci sono stati dei cambiamenti. Poi la cosa molto bella è stata girare con dei veri contadini, quindi capire la loro storia è stato molto molto interessante. Per lì vede il paradiso e poi racconta quello che io sento in questo momento. La cosa interessante è che appunto valorizzi in toto la natura, abbiamo visto questo campo di ulivi che caratterizzano… Sì, ma bisogna penso spingere tanto, proprio come stavamo dicendo prima, il rapporto con la natura uomo ti aiuta a stare bene, quindi bisogna riscoprire secondo me molto, tantissimo questi valori, ma proprio come nasce un qualcosa, questo mi… poi con il cortometraggio, perché il cortometraggio è una delle fasi più difficili, per me è molto più difficile di un film, perché in un breve tempo devi raccontare tantissime emozioni. L'hai presentato da qualche parte? Sì, il corto è stato in finale al Fellini, a Rimini, ha vinto un paio di premi qui in Puglia, del cortocircuiti, ha girato un po' a Bologna come miglior fotografia, è stato un po' fuori, adesso sto lavorando per una nuova… vorrei continuare un po' questa scena di cortometraggio con queste persone… Sempre in Puglia? Sì, però sempre con dei riferimenti a livello di inquadratura, a me piace molto il cinema americano a livello di inquadratura, quindi vorrei un po' come abbiamo detto prima andare oltre, però portando poi la storia, la nostra storia. Allora, noi vedremo il tuo cortometraggio a chiusura di questa trasmissione, Rocchi, torno da te, perché rispetto ai 5 filoni che sono stati presentati oggi, quale il consorzio Vittorio Guaceto può far suo in toto, secondo te? Beh, sembra un po' esagerato dirlo, ma in realtà li racchiude un po' tutti, perché come dicevo prima, nell'ottica ormai di considerare la riserva non più come un elemento chiuso in un perimetro, ma assolutamente in continua ossigenazione con il territorio, noi adesso stiamo lavorando proprio con i comuni di riferimento che sono Carovigno, Brindisi in primis, poi c'è San Vito e adesso Mesagne che è da poco entrata nella nostra Carta Europea del Turismo Sostenibile nel Forum, stiamo lavorando per una destinazione ampliata e questa destinazione ampliata ha degli obiettivi veramente importanti, che è quello di lavorare tutto l'anno su un turismo sostenibile, sull'inclusività verso la disabilità, sull'assolutamente l'asset dell'autenticità, perché questo è un territorio brindisino che ha la fortuna di mantenere ancora intatti tantissimi pezzi e quindi Torre Guaceto rappresenta in questo senso, in questa ottica, in questa prospettiva un propulsore proprio di queste idee, in propulsore di idee legate ad un turismo non di massa, legate ad un turismo lento e quindi l'idea che abbiamo noi anche nel progetto Tetide di aver connesso tre aree protette ioniche, tre adriatiche nel progetto Tetide.it che sono in rete dei parchi di Puglia, è proprio quello di interconnettere con lentezza, quindi con il bike, con i cammini, con i itinerari gastronomici queste aree protette, questa parte di Puglia che racchiude come diciamo prima tutti questi segmenti, tutti questi prodotti, si chiamano strategia di marketing di multiprodotto, che è una cosa un po' teorica, ma noi veramente stiamo cercando di metterla in pratica. E' cosa davvero interessante, allora io andrei veramente velocemente, una piccola finestra di nuovo a Milano, perché è sempre lì presente per noi Maurizio Spaccavento, non è presente, però io so che un volo intanto è in attesa appunto di Rocchi, perché tra pochissimo potrai andare a Milano per la conferenza di domani. Sì, domani abbiamo questo importante appuntamento, calendarizzato l'ultimo giorno della bit alle ore 14, noi saremo nello spazio conferenze dello stand della Regione Puglia, di Puglia Promozione, dove presentiamo insieme ad una rete di sindaci, Latiano, Francavilla, ci sono anche Mesagne e Carovigno, questo progetto dei tesori nascosti, il tesori nascosti vuole dire, un tempo si diceva l'Italia minore, adesso non si può neanche più dire, perché in realtà questi Italia minori, questi borghi, questi luoghi un po' semi sconosciuti sono diventati la vera ricchezza, quindi in realtà è diventata l'Italia maggiore, quindi anche la Puglia maggiore che però ha bisogno di organizzarsi e lo faremo domani in questo evento al quale parteciperà anche l'assessore Lopane, presentando questa parte del brindisimo, che è quella forse meno conosciuta, meno esplosa, ma che in pian piano tutti insieme vorremmo cercare di mettere nei circuiti del turismo nazionale e internazionale. E ne probabilmente saremo lì, allora chiedo alla regia se Maurizio è pronto per il collegamento, allora Maurizio davvero hai pochissimi minuti perché dopo devo fermarmi per qualche istante, vengo da te a Milano. Ecco, intanto proprio in attesa di ripristinare il collegamento io andrei avanti e farei ascoltare i nostri telespettatori un'intervista che appunto ha fatto Maurizio Spaccavento rilasciata da Antonio Mattarrelli perché pensate qualche giorno fa Mesagne, lui è il sindicato di Mesagne, è stata nominata capitale della cultura della Puglia del 2023. Mesagne è capitale della cultura della Puglia 2023, un riconoscimento che gli permetterà anche di realizzare iniziative nel solto di quella che era la sua candidatura, iniziative che vengono presentate alla BIT di Milano. Sì, è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e rende onore al grande lavoro che abbiamo svolto di promozione culturale nella nostra città e credo anche nell'intero territorio. Quindi la Regione Puglia istituisce questo premio che varrà anche per gli anni che verranno e quindi un incentivo affinché i comuni pugliesi possano investire nella cultura. Ovviamente grazie anche a questo sostegno che viene dalla Regione Puglia noi realizzeremo parte del programma che abbiamo inserito all'interno di un dossier che presentavamo per essere capitale della cultura del 2024 e che prenderà avvio già nel 2023. Questa è una bella conquista per Mesagne, una bellissima cittadina, sempre in provincia di Brindisi, quindi quel 13% speriamo quest'anno aumenti leggermente di più. Lei, appunto Rocchi, cosa pensi rispetto anche a questa nomina? Perché arrivano dei finanziamenti molto importanti per poter realizzare quei progetti che Mesagne aveva in cantiera. Sì, Mesagne ha avuto un percorso straordinario, un po' la storia di Mesagne è la storia di Torre Guaceto, la storia di tutta quella parte di Brindisino, pensa che a Torre Guaceto circa 50 anni fa era prevista una centrale nucleare, poi abbiamo avuto la fortuna, ovviamente ironizzando, di avere il fenomeno del contrabbando, stiamo parlando delle zone della Sacra Corona Unita, ma da quasi un quindicennio c'è una rivoluzione in atto, veramente una rinascita di cui in parte Torre Guaceto è stata protagonista, ma Mesagne più di tutte ha saputo capitalizzarla attraverso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, quindi c'è stato un processo molto bello, molto forte, di grande partecipazione di tutto il territorio, non solo di Mesagne, i risultati sono che tra le perdenti ai noi di Mesagne rispetto a quella candidatura, la Regione Puglia e le Regioni hanno premiato questo processo ed è veramente un momento magico, guarda, io dico sempre c'è un allineamento di astri molto molto bello tra Brindisi che è il capoluogo e tutti questi comuni, perché hanno delle amministrazioni veramente virtuose e lungimiranti, Torre Guaceto sta cercando di dare un contributo importante insieme ad altre aree marine protette e altri luoghi di interesse storico, culturale e naturalistico, quindi io vedo grande prospettiva e veramente uno sviluppo che si può avere in questo territorio molto importante. La cosa bella è proprio questa, perché io ricordo anche quando Bari e Taranto arrivarono tra le dieci finaliste, poi all'epoca venne eletta Procida, nonostante ciò i due comuni insieme a un sostegno proprio della Regione portarono avanti dei progetti scritti da dossier, quindi questo è molto bello che la Regione supporta queste cose. Messagna riceverà 300 mila Euro dalla Regione che può diventare anche una base per moltiplicare questo finanziamento, quindi siamo tutti felici ovviamente. Allora io voglio ringraziare Rocchi Maratessa, Presidente Consorzio di Gestione Torre Guaceto e Giuseppe Gimi per essere stati qui con me.